Pianta ornamentale in un vaso azzurro Soprattutto quello che è un piccolo adattatore da schedina SD a porta Lightning Quello che normalmente serve per leggere le foto direttamente sul vostro iPhone Mi servirà anche una macchina fotografica, qui una RX100, la mia Fida RX100 Andiamo ad accenderla e a scattare una foto molto banale, molto semplice Questo vasetto simpatico dell'IKEA direttamente sul fondo grigio di questo muro Vado a spegnere la macchina e estrarre soprattutto la schedina SD dall'interno In modo da poterla connettere al mio adattatore in maniera molto semplice e lineare E poi ragazzi, qui arriva il pezzo forte, andiamo ad incastrarlo al di sotto delle iPods Nell'apposita porta Lightning Mi verrà un ibrido, una roba un po' strana come vedete ma assolutamente adesso succede la magia Mi infilerò una cuffietta all'interno della mia orecchia Dopodiché andrò a prendere un piccolo microfono lavalier in cui appoggiare la cuffietta Per farvi sentire che cosa dice Siri e attenzione Hey Siri, leggi il contenuto della schedina SD Pianta ornamentale in un vaso azzurro su un muro grigio Eh? Ragazza poco vestita che si appresta Ok, basta, basta, grazie Siri Beh, che dirvi, se questa tipologia di video vi può interessare scoprire segreti interessanti All'interno di quelli che sono dei prodotti sul mercato, magari anche da poco Probabilmente siamo ancora in una versione beta Vedete che, diciamo, la descrizione della fotografia non è ottimale, non è precisissima Però sicuramente molto interessante come funzionalità Immaginatevi di essere un fotografo Vi buttate in tasca direttamente la schedina e le vostre cuffiette Potete camminare con Siri che vi racconta tutti quelli che sono gli scatti che avete fatto durante la giornata Potete anche fare una preselezione, veramente bello Qui sotto in descrizione vi lascio anche un link per andare a vedere come ho scoperto questo metodo È una cosa abbastanza interessante Ma soprattutto ricordatevi di farmi sapere cosa ne pensate con un bel mi piace qui sotto E soprattutto un commentino Noi ci rivediamo sabato prossimo con il solito prossimo video